Una denuncia forte e chiara, più che una semplice lettera di dimissione. L'esposizione è dettagliata di riserve che l'amministrazione comunale di Nociara Inferiore condivide tutto sommato. Non ha remore nell'esprimersi in questi termini il sindaco di Nociara Inferiore, Maglio Torquato, dopo che con le dimissioni del nuovo coordinatore Plinio Bartiromo il piano di zona è finito di nuovo nella bufera. E la lettera che ha scritto il coordinatore Bartiromo, il neocordinato coordinatore Bartiromo, dopo le dimissioni del precedente che era Basile, dice molte cose che noi come Comune di Nociara, almeno una parte, non tutte, avevamo sollevato in termini di perplessità dal punto di vista del funzionamento del piano di zona, della sua gestione anche da parte del Comune Capofila, della operatività e della, non voglio dire, della regolarità, ma diciamo almeno della linearità, della trasparenza della gestione stessa. Purtroppo abbiamo avuto anche su questo ragione, così come avemmo ragione in ordine alla vicenda della nomina della coordinatrice che doveva essere inizialmente la dottoressa Zampelle, che poi tale non fu, fumo tra i pochi comuni ad opporci e diciamo avemmo ragione, ci ha dato ragione addirittura un tribunale dello Stato, e sulle critiche mosse da Bartiromo sul piano di zona noi concordiamo purtroppo in pieno, ma non lo diciamo a posteriori. Lo abbiamo detto sin dall'inizio che c'erano cose che non funzionavano e che vanno profondamente cambiate in quella gestione. Purtroppo molti non lo percepiscono, ma il piano di zona è una frontiera drammaticamente importante per le nostre realtà. Più aumenta il tasso di difficoltà economica, di indigenza delle popolazioni dell'agro, più i servizi del piano di zona in termini di assistenza sociale, di funzionamento, di utilizzo dei fondi che la regione distribuisce, vanno gestiti in modo corretto, equo, senza canali privilegiati a beneficio di tutte le comunità.